Questa riqualificazione di Campagna Prandi che in realtà è un sentiero di collegamento diciamo tra via San Michele e il Colle di San Giusto, quindi una prospettiva interessante dal punto di vista turistico. Sì, è interessante dal punto di vista turistico, però la cosa più interessante sarebbe fare via San Michele in giù verso le rive, così togliamo il traffico da via Felice Venezian, naturalmente potremo fare il carico e scarico per la merce che c'è sempre un caos, ovviamente chiudere via Madonna del Mare e così abbiamo una situazione veramente importante. Dopo, perché non si fa? Perché c'è sempre qualcuno che si lamenta, chi è a favore, chi è contrario. L'importante credo, cari cittadini, è fare le cose, se le facciamo poi troveremo anche dei benefici. Sindaco, spieghiamo bene, via San Michele quindi ha senso unico in discesa? Via San Michele ha senso unico in discesa, naturalmente possiamo chiudere quel pezzo che attraversa da via Cavana, via Madonna del Mare, via Madonna del Mare chiusa, naturalmente c'è il problema dell'autobus, ma insomma fare 100 metri per andare a prendere l'autobus da qualche altra parte non credo che veramente sia un problema. Lei voleva lanciare invece ai cittadini un appello sul discorso dei ratti, ovvero evitare di lasciare in strada cibo o altro. Spendiamo delle cifre importanti per la derazzizzazione, non sempre questo è stato fatto e purtroppo vediamo i risultati. Allora l'invito ai cittadini è non dare da mangiare ai colombi, non dare da mangiare ai gabbiani, non lasciare cibo in giro perché mettiamo adesso un intervento importante con le esche avvelenate per i topi, bene, però non dobbiamo dar loro alternative di cibo, per cui invito tutti a non lasciare in strada qualsiasi tipo di cibo, in maniera che è così importante che queste bestiacce mangiano le esche avvelenate e così ci liberiamo di questo fastidioso problema.